Ciao Salvatore, il tuo camerettaio di fiducia. Beh, abbiamo deciso di riproporre la cameretta che vedi alle mie spalle. Ne abbiamo soltanto 5 e considera che l'offerta è limitata alle 5 unità. La composizione, tutta la composizione che vedi alle mie spalle, completa di armadiatura, cabina, armadio, letti sovrapposti, reti di piani, mensole, tutto. Beh, il costo è quello passato, 2430 euro per tutta la composizione che vedi alle mie spalle. 5 anni di garanzia, prodotto sempre di altissima qualità, ma ricorda, ne abbiamo soltanto 5. Ciao Salvatore, il tuo camerettaio di fiducia.